Buon pomeriggio e buona domenica a voi. Allora, in Occidente si ha una strana idea di cos'è il fascismo, di cos'è il nazismo e, a seconda della convenienza, si ritiene che quel tal individuo è sì fascista oppure no, è sì nazista oppure no, a seconda di come conviene nel racconto. E così riguarda, ad esempio, anche il tema di oggi, in particolare la brigata Azov che sappiamo tutti, una brigata neonazista che addirittura è stata a un certo punto incorporata in quello che è l'esercito ucraino da parte di Zelensky. Una cosa davvero incredibile e in Occidente si nega addirittura che gli Azov siano dei nazisti quando addirittura lo portano su molte delle loro divise, ma basta ascoltare poi i loro discorsi. Però non tutti, voglio dire, c'è anche qualcuno che cerca di fare un ragionamento più obiettivo e viene giusto casualmente perché mi è venuto sotto mano questo video ieri sera dopo aver fatto quello nel pomeriggio che riguardava Zelensky, l'ultimo video appunto su quello che è Zelensky e sul fatto che Zelensky ha deciso come codice d'onore di non stringere, di non far stringere la mano dei propri atleti eventualmente agli atleti russi alle Olimpiadi. Ascoltate cosa diceva qualche tempo fa il giornalista Marco Travaglio. Ha scritto che l'Ucraina è un paese pieno di nazisti, questa cosa non è vera, non è vera. Tu conosci un altro paese democratico perché siamo obbligati a dire che l'Ucraina è democratica anche se ha messo fuori legge tutti e 11 i partiti di opposizione arrestandone il capo, ma tu conosci un paese democratico che abbia una milizia dichiaratamente neonazista che fa parte dell'esercito nazionale? Cioè come se da noi ci fossero i nazisti che marciano insieme ai parà della folgore eccetera, secondo te è sbagliato? Tu conosci l'esercito italiano nel dettaglio? Allora, credo che sia abbastanza chiaro e anche nel finale del video quando il giornalista fa questa obiezione e tu conosci all'interno dell'esercito italiano quanti fascisti ci sono, l'applauso dello studio, chiaramente è uno studio di sinistrosi, ovviamente può anche darsi, io non è che lo nego, ma cosa c'entra? Vedete, questo è il tipico, la tipica mentalità di quelli di sinistra. Tu fai un'obiezione, un'affermazione come quella che fa Marco Travaglio e lui tira fuori un'altra cosa che non c'entra nulla, non c'entra nulla con l'Ucraina. Ma chi se ne frega se in Congo, se in Sud America, se in Sud Africa sono fascisti? Non si sta parlando di questo, si sta parlando di quelli che voi ritenete dei bravi ragazzi, cioè quelli della brigata Adzov, che invece sono dei nazisti. Questo è il problema caro giornalista. Ma venendo sempre ai giornalisti, io devo onestamente dire che Marco Travaglio, che spesso ho attaccato, criticato perché non ne condivido le idee e soprattutto ideologicamente non sono vicino a lui, però devo francamente ammettere che uno dei pochissimi giornalisti obiettivo, e più che obiettivo scusate, non è questo il termine giusto, è uno dei pochi giornalisti che non le manda a dire, che attacca indifferentemente i potenti, ecco questa è la cosa giusta che volevo dire. E abbiamo la dimostrazione in questi 15-20 anni dove lui indifferentemente ha attaccato i potenti dalla destra, in particolare Berlusconi, i potenti della sinistra, in particolare Renzi, no? Vi ricordate? In maniera durissima sia l'uno che l'altro. Io non dico che avesse sempre ragione su tutto quello che ha avuto modo di sollevare, ma questa è la dimostrazione che lui non difende nell'uno schieramento nell'altro. Invece ci sono tantissimi giornalisti da una parte e dall'altro che, insomma, difendono solo i propri e attaccano solo gli avversari politici senza assolutamente essere coerenti come dovrebbe essere un giornalista. Questa è la chiara dimostrazione, no? Ma tornando a Monte, è incredibile come questi non riescono neanche ad ammettere che Zelensky ha al suo interno, e l'ha deciso lui, attenzione, di avere la brigata Azov che sono assolutamente dei nazisti e ci sono tantissime prove che lo dimostrano. Con questo vi saluto, vi auguro ancora una buona domenica e ci sentiamo più tardi.